buonasera e benvenuti a quest'altra recensione di recensioni veloci questa sera parleremo della striscia led rgb della teking bene è arrivato a questa questo set punto questa striscia led della teking rgb come indicato qui il modello sl01 girando la scatola troviamo alcune indicazioni delle specifiche 24 watt con uscita di 12 volt e 2 ampere altri riferimenti anche come indicato qua il telecomando con infrarossi per il controllo remoto andiamo ad aprirla a vedere dentro che cosa c'è ecco cosa abbiamo all'interno abbiamo appunto la nostra striscia led con l'adesivo 3m da un lato appunto l'attacco per l'alimentazione è lungo la striscia abbiamo anche le indicazioni per il taglio come potete vedere qua l'indicazione appunto che indica il taglio utile sarà appunto poi quello che c'è in dotazione ovvero i connettori eccoli qua abbiamo il telecomando il pratico manuale e ovviamente l'alimentatore dedicato ecco la striscia led installata sotto la scrivania qua siamo nella modalità appunto luce bianca normale utilizzando il telecomandino a disposizione possiamo cambiare i colori molto semplice immediato possiamo aumentare o diminuire l'intensità luminosa si nota adesso diminuiamo l'intensità ok adesso aumentiamo abbiamo anche alcune modalità random insomma ci sono c'è l'effetto fade l'effetto strobe questo è l'effetto fade questo è un effetto strobe con tre colori poi invece abbiamo i gradienti da le varie colorazioni anche qua abbiamo un effetto strobe con invece sette colori oppure premiamo appunto la w per white abbiamo il tasto accensione spegnimento ecco qui il nostro interruttore con le colorazioni anche l'rgb colori singoli white e qua di lato abbiamo appunto le indicazioni relative purtroppo sono scritti in nero su grigio non è proprio il massimo sarebbe stato meglio un bianco su su grigio c'è indicato scritto flash strobe fade e smooth i tasti on off e i tasti in alto per l'indicazione appunto per la regolazione della luminosità molto pratico bene che dire in definitiva di questa striscia led della tecchino sicuramente molto utile una cosa molto carina il prezzo è in linea con altri dispositivi simili cambia solo per esempio la lunghezza oppure magari la possibilità appunto di avere con lunghezze differenti magari più alimentatori è comodo il fatto di poterla tagliare ci sono indicazioni molto precise e con i vari connettori poter appunto creare uno schema molto preciso che ne so attorno a tv per esempio come ho fatto io sotto una scrivania utile appunto ovviamente fondamentale il telecomando per la gestione dei colori è una cosa simpatica l'intensità luminosa se lo utilizzate magari in situazioni come dei pensili o cose del genere effettivamente l'intensità luminosa è anche molto molto buona gli effetti dei colori sono anche molto carini soprattutto quelli non troppo forti non troppo intensi magari i classici colori RGB magari sono molto forti ma il resto sono anche molto carini da avere fanno anche atmosfera sicuramente è una cosa carina anche in ambito tech se si vuole dare un topo di colore alla vostra postazione computer è sicuramente un prodotto consigliato alla prossima recensione di Recensioni Veloci